Caterina Ciacciarelli nacque nel gennaio del 1926 a San Giorgio Alliri, in provincia di Frosinone. Dopo essersi convertita all'Evangelo, nel 1949 sposò Alfonso Melluso, al quale è stata legata per ben 63 anni. Donna di fede e di preghiera, è stato al fianco di suo marito anche nel lavoro pastorale, prima a Moschiano e poi, per diversi decenni, nella zona di Secondigliano, a Napoli. Più volte è colpita da gravi malattie, è stata miracolata dal Signore. Risiede oggi vicino ai figli, circondata dall'amore di tutti i suoi nipoti e pronipoti. È stata diretta testimone della nascita e dello sviluppo della testimonianza pentecostale a Napoli e provincia. Anni difficili in cui la persecuzione ha duramente provato la fede di questo primo nucleo di credenti, che però, nonostante tutto, ha resistito. Non solo la testimonianza pentecostale è sopravvissuta, ma poi, negli anni, si è anche diffusa e rafforzata. Oggi, nonostante suo marito l'abbia preceduto in gloria, Caterina continua a onorare e servire Dio ed in occasione del compimento dei suoi 90 anni, un traguardo riguardevole ed importante, abbiamo deciso di incontrarla. In questa intervista abbiamo privilegiato, però, non tanto, in questo caso, la storia e i racconti del passato, pur importanti e di grande valore, ma in questa precisa occasione Caterina ha parlato alla sua famiglia, alla sua comunità, alla sua chiesa, ai credenti pentecostali. Ha parlato della sua eredità spirituale, degli insegnamenti che in questi anni ha ricevuto e che vuole trasmettere. Lo ha fatto con semplicità e con il cuore, manifestando una grande fermezza, una grande forza, una forza che viene da Dio. In questa intervista c'è sicuramente un coinvolgimento personale da parte mia. A volte si dice che la realtà supera la fantasia. E forse è vero. Pensate che oggi intervisto la nonna di mia moglie, novantenne, che 76 anni fa aveva tra le sue braccia mio nonno. Chi l'avrebbe mai potuto immaginare, non di certo tanto tempo fa, loro, che due nipoti si sarebbero incontrati, amati e poi sposati. Ma appunto questi sono quelli che noi definiamo anche i miracoli di Dio, l'opera di Dio. Quindi capirete che c'è da parte mia sicuramente un coinvolgimento personale, emotivo, per questa intervista. Ma veniamo a conoscenza finalmente di quella che è la storia, ma soprattutto la testimonianza spirituale di Caterina Ciacerelli. Allora, dunque, 90 anni è proprio un traguardo importante. Vorrei iniziare questa intervista con una domanda semplice, ma secondo me importante. In questa tua lunga vita, l'incontro più importante che hai fatto, qual è stato? Quando il Signore mi ha salvato, da quando era giovane, 23 anni. Come è avvenuta questa conversione? Che significa per te convertirsi a Cristo? È una cosa meravigliosa. Questo giorno, diciamo, non lo possiamo descrivere perché è troppo bello. Quindi in questa tua lunga vita l'incontro più importante, mi pare di aver capito, è stato con Gesù. Sì. Ti sei mai pentita di questa scelta che hai fatto di seguire Cristo? No, non mi sono mai pentita perché è una gioia nella mia vita di servire il Signore. Sicuramente in tanti anni avrai conosciuto momenti, diciamo, di difficoltà e di dolore. Sì. Anche in quei momenti hai servito e hai onorato Dio? Ho sentito Gesù nella mia vita vicino a me, perché ne ho avuto parecchi di difficoltà, malattie, ecco. Ma il Signore è stato sempre vicino a me, non mi ha lasciato. Della tua gioventù, della prima fase della tua vita, qual è il momento più bello che ricordi? E' una cosa bella quando mi sono incontrata con Gesù. E in poco tempo il Signore mi battezzò con lo Spirito Santo. E' una cosa meravigliosa. Ecco, a proposito di Spirito Santo, abbiamo scelto, diciamo, di stare vicino al fuoco perché ami stare, diciamo, vicino al tuo cammino, dove prendi calore, diciamo, nelle ossa. Ma anche perché nella parola di Dio il fuoco spesso rappresenta in maniera simbolica lo Spirito Santo di cui prima ci hai parlato. Questo battesimo per te cosa ha significato la pienezza dello Spirito? E' stata una guida nella mia vita per tutto il mio cammino. Quando il Signore mi battezzò, credevo che stavo salendo nel cielo. Quindi un'esperienza profonda, intima, spirituale. Bella, bella. Questa esperienza è solo un ricordo lontano o la vivi anche, l'hai vissuta nella tua vita? No, no, si deve vivere sempre con questa speranza, se no lo perdi. Eppure emerge, diciamo, chi ci ascolta una conversione, un'esperienza vera, autentica, passionale. Però, una piccola parentesi storica, non dimentichiamo che quelli che tu hai vissuto sono stati gli anni della persecuzione per i venti costali. Che ricordi hai di quegli anni? Che ricordiamo quegli anni? Ricordiamo che ci dovevamo nascondere nei luoghi desolate, appartati e sempre abbiamo pregato il Signore. La Bibbia non si è mai abbandonata e il servizio di culto non si è mai abbandonato. Non si è mai abbandonata, mentre avevano un crano, facevano un culto, nascosto. Vediamo che stringi forte questa Bibbia, i tuoi figli, i tuoi nipoti sanno che quando entrano in casa tua ti trovano ancora oggi con la Bibbia tra le mani. Ma per un credente, se lo dovessi dire in modo semplice per te, questa Bibbia, questa parola di Dio, che significa? Che cos'è? È una forza il nostro cammino. Noi troviamo la parola di Dio e ci guida nelle vie di Dio. Anche nella vita pratica, nella vita di ogni giorno, tu sei stata moglie, mamma, nonna. Sì, nella vita pratica il Signore è con noi spiritualmente e materialmente. Non ci lascia e non ci abbandona. Nella tua vita abbiamo capito che l'incontro più importante è stato quello con Gesù, però c'è stato un altro incontro, diciamo, che non ha la stessa importanza spirituale, ma se vogliamo l'ha avuta comunque, soprattutto anche nella tua vita umana. È stato l'incontro, diciamo, con quello che poi è diventato tuo marito, Alfonso. Sì. Come è avvenuto questo incontro, i tuoi primi ricordi? È un incontro bellissimo. Fu amore a prima vista, diciamo così? No, io come sono... È sempre il Signore che guida le cose. Quando io sono venuto a Napoli, il suo non era salvato ancora. Io non sapevo ancora la parola di Dio che era. E allora, quando mi ha visto, ha avuto quella sensazione, dice, questa è tua moglie. E questo è quello che ha pensato, diciamo, il tuo futuro marito di te. Ma tu cosa hai pensato quando hai visto lui le prime volte? Cosa ci ho pensato? Ha detto, possibilmente, quello mi guardava, aveva sempre gli occhi addosso. E se non io, disse, ma che boh. Allora, io, diciamo, i giovani di oggi sarebbe difficile spiegare che significa un fidanzamento, diciamo, cristiano, una promessa di matrimonio di così tanti anni fa. Però mi pare di aver capito che bastava uno sguardo per capirsi e poi decidere di trascorrere una vita insieme. C'è un episodio molto particolare che vorrei ricordare con te, che è quello relativo, diciamo, al tuo matrimonio. Che bisogna ricordare che un po' per l'età, diciamo, vostra, di tuo marito, che seppur appartiene alla seconda generazione, è comunque stato il primo. Quindi il vostro è stato uno dei primissimi matrimoni, se non il primo, in ambito, diciamo, pentecostale. E tutti ricordano che tu non hai indossato, diciamo, ricordi spesso questo episodio, no? La veste, la veste bianca. Che ricordo hai di quel giorno? Come si è svolto? Dove si è svolto? Si è svolto in casa di mia socia, aveva una bella sala grossa e siamo stati là, fatti un buon pranzo. E avete svolto una funzione, diciamo, religiosa, quindi il pastore... No, avevo sposato a chiesa e poi siamo andati a Capodimonti. E ricordi il tuo viaggio di nozze? Dove... Tuo marito ci raccontava che il vostro viaggio di nozze è avvenuto tra Roma, Bologna, Venezia, che oggi sembra dire poco, ma all'epoca sembrava aver visto l'America, praticamente. All'epoca era assai. Mio marito partì con 200 anni, stavano lì. I 7 anni sono sofferto, c'era il mio marito. Cosa ha significato per te sposare Alfonso Melluso? Era la mano di Dio che ci ha uniti tutti. Un matrimonio lungo 63 anni, potrebbe essere la notizia di apertura di un TG, no? Siamo stati felici. Una persona, diciamo, che ha raggiunto la tua età, ha quasi vissuto, io penso, possiamo dire, due epoche. Hai vissuto quella relativa ormai alla tua famiglia d'origine. Bisogna dire che tu sei ormai l'unica, diciamo, rimasta in vita di quella famiglia. Sì. E poi c'è la tua famiglia di oggi. Se vogliamo dire qualche numero di questa famiglia, possiamo dire quattro figli, dieci nipoti, ventidue pronipoti e altri, diciamo, ancora in arrivo. Il Signore mi ha dato la gioia di vedere pure i pronipoti. E in tutti questi anni tu hai mai avuto un rammarico, un pentimento, una cosa che avresti voluto fare e non hai fatto? No. Niente. Sono stata sempre gioiosa nelle mani di Dio. Un capitolo importante della vostra vita è quello relativo al servizio, no? Al Signore che avete svolto, tu e tuo marito, ma anche la tua famiglia. Cosa ha significato servire Dio? Che significa servire il Signore per Caterina? Servire il Signore è una cosa importante nella nostra vita, a stare al servizio di Dio. La preghiera, ecco, un altro grande tema che riguarda i credenti, i cristiani. Quanto è stata importante nella tua vita? A cosa ti è servita la preghiera? La preghiera è quella che ci mantiene forte a servire il Signore. Senza la preghiera noi ci abbandoniamo. ci possiamo spegnere, come un fuoco che si spegne. È un fuoco che si spegne. La preghiera invece ti aiuta, lo Spirito di Dio ti guida, ti illumina il cammino. Nella tua vita, diciamo, matrimoniale che è stata così lunga, sicuramente io credo che, e noi lo sappiamo, tu abbia vissuto con difficoltà, con dolore il momento della dipartita. Certo, mio marito mi era vicino, è logico, ma io ho avuto parecchie difficoltà, avendo un calcinoma. La tua storia è fatta di tanti momenti, di tante malattie, hai avuto anche una malattia molto seria. Il Signore mi è stato vicino, mi ha consolato col suo spirito. Ti chiedevo prima, da quando tuo marito non c'è più, questo volevo sapere, e tu senti, credo, sicuramente la mancanza, ma da chi è stata poi, diciamo, da chi è stato colmato questo vuoto che ha lasciato la figura di tuo marito? È sicuro, lo Spirito di Dio che ti rasserena, ti consola, ti fa vedere un'altra vita che un giorno lasceremo, lasceremo questo corpo e ce ne andremo col Signore. È una speranza che coltiva. sicuramente ai figli hai dato un insegnamento cristiano. Grazie a Dio. Servono il Signore insieme diciamo a quello che è tuo genero e alle tue nuore perché hai tre figli maschi e una figlia femmina. Ma a questi figli magari a volte è difficile comunicare i sentimenti diciamo a tu per tu ma cosa ti sentiresti di dire per incoraggiarli e come messaggio ecco di incoraggiamento per le loro vite? Certo che ora non sto più all'altezza ma anni fa dicevo pregato Signore che vi guida vi illumina il cammino ma ora e no invece credo che loro si aspettino sempre una parola da questa figura da te che ormai è una figura importante per loro una matriarca una donna di fede e c'è qualcosa ai tuoi figli che tu avresti voluto dire non hai mai detto diciamo se dovessi averli di fronte a tutti e quattro posso dire che sono bravi tutti e quattro non mi hanno dato difficoltà eppure lo diciamo a chi ci ascolta che oggi vivi diciamo circondata dall'amore della tua famiglia soprattutto dei tuoi figli perché vivi nella casa diciamo con tua figlia che vedi ogni giorno ma anche i figli maschi sono così presenti insieme alle loro mogli e al tuo genero un esempio ecco di famiglia cristiana unita quanto è importante per te avere i tuoi figli vicino? è importantissimo è una cosa meravigliosa di averli vicino che pochi giorni fa mi venne insomma non so che ma vero non mi sentivo bene e quelli stavano tutti qua intorno vicino a me è una questo è è un diciamo motivo di orgoglio no? è una una madre lo dice è una gioia possiamo dire che insieme ai quattro tuoi figli diciamo ecco di sangue hai avuto anche appunto tuo genero e le tue nuore che sono come dei figli senza altro una vita trascorsa insieme sempre diciamo sempre ma pur mio marito era figurato che il sabato aveva sempre i figli a tavola l'unità della famiglia è il tema centrale ecco della tua storia della tua vita perciò io insisto molto su questo punto noi potremmo raccontare tante cose del passato tanti anche fisici però io credo che in questa intervista debba emergere altro che è un po quello che deve essere la tua eredità spirituale no? quello che ti senti di dire io ti ho fatto un po parlare ai tuoi figli che sono le persone che ti hanno accompagnato a lungo in questa vita che hai amato però tu hai anche dieci nipoti e ventidue pronipoti i tuoi nipoti diciamo ti hanno conosciuto perché il più piccolino è comunque già ormai un uomo adulto i tuoi nipoti hanno conosciuto hanno visto la tua testimonianza di fede ma ci sono molti di questi pronipoti che sono neonati sono piccolissimi e tu a questi voglio voglio camminare passo per passo hai tuoi dieci nipoti ognuno con la sua storia la sua vita la sua famiglia con i suoi pregi con i suoi difetti cosa ti senti di dire? sono sempre pronte a dargli parola di conforto nel signore se dovessero attraversare qualche momento diciamo di difficoltà e di scoraggiamento spirituale tu cosa gli puoi dire? gli potrei dire incoraggiarlo nel signore che il signore fasse tutto di questi pronipoti dicevo prima ce n'è qualcuno proprio piccolino probabilmente sappiamo che qualcuno di loro un giorno vedrà questo video questi pronipoti ora così piccolini saranno cambiate ancora tante altre cose ma tu a questi pronipoti oggi così piccolini cosa gli vuoi dire? un messaggio che gli vuoi lanciare? un messaggio che il signore benedisce fa crescere santi ripercorrere 90 anni di storia non è semplice per la verità non è nemmeno l'obiettivo di questa intervista il desiderio con cui diciamo abbiamo fatto questo incontro questa chiacchierata è quello di poter dare a Caterina alla nonna Caterina l'opportunità di parlare alla sua famiglia alle generazioni di Pentecostali diciamo attuali e future di quella che è stata una vita insieme e vicino a Dio ora potremmo ripercorrere tanti momenti ci sono stati miracoli fisici nella vita di questa donna ci sono stati momenti molto felici momenti invece di difficoltà però abbiamo capito che in questa storia la base è stato Cristo è stato Cristo Gesù è certo il signore mi è stato sempre vicino non mi ha lasciato io credo che questo è il messaggio e non mi ha abbandonato Amen io insisto su questo punto e vorrei concludere così donna di preghiera alcuni figli i miei zii parlandomi diciamo della madre della nonna Caterina mi dicono quante volte nella notte diciamo sentiamo nostra madre pregare Dio ecco appunto io credo che al di là di tante parole questo sia il momento più importante di questa intervista perché io voglio che tu possa pregare possiamo chiudere gli occhi come facciamo noi nelle nostre preghiere e tu possa tener conto nella tua preghiera della tua famiglia della tua grande famiglia è certo io lo faccio sempre in questo momento lo faccio sempre ogni preghiera che faccio metto la mia famiglia davanti amèn ed è giusto che i familiari sappiano questo e allora concludiamo penso nel migliore dei modi come tu hai voluto concludere questa intervista con una preghiera sapendo che come scritto nella parola di Dio la preghiera cambia le cose e sappiamo pure un'altra cosa che è preziosa agli occhi di Dio la preghiera è giusta fatta con efficacia quindi dall'alto della tua esperienza spirituale e di vita preghiamo il Signore si oh gloria a te Signore grazie gloria a Dio alleluia grazie Signore gloria al tuo nome gloria a te Padre sei buono Gesù sei fedele fedele nelle nelle piccole e grandi cose tu mi sei stato sempre vicino e io ti ringrazio in questo momento oh per la tua fedeltà come tu mi hai guardato mi hai sostenuto mi hai liberato da ogni male ed ogni apparenza di male grazie Signore Padre nostro in questo momento ti metto tutta la mia famiglia davanti a te Signore oh falla crescere piccoli e grande crescere sempre nella tua grazia nel tuo timore perché quello è una cosa importante di servire Dio con con fede con amore oh la nostra discendenza Signore vogliamo che tu operi e opere potentemente manifesta di Signore con potenza con gloria e con virtù oh Signore lo Spirito tuo è benigno è importante nella nostra vita che ci guida lungo il cammino oh Signore aiutaci tu benediceci nel nome di Gesù benedetti in eterno amene 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 alleluia gloria a te gloria a te alleluia alleluia santo sei signore sei santo alleluia gloria a te gloria a Dio alleluia amene veredetto sei vogliamo continuare a combattere non vogliamo rimanere seduti vogliamo combattere il buon combattimento perché il campo è grande gli operai sono poche preghiamo il Signore 50 anni della tua vita sono trascorsi dedicati al lavoro e quotidianamente illuminati dalla eterna legge del Signore questo libro della legge non si riparta mai dalla tua bocca ma metterò giorno e notte avendo cura di perdere in pratica tutto ciò che mescolino perché allora riuscirai in tutte le due comprese e allora prospererai oggi mio marito sta col Signore sta la gloria di Dio quello che lui abbramava e io voglio essere fedele come è stato mio marito fedele al Signore per incontrare il Signore e per incontrare quello Dio allora ci troviamo nel nel salone di casa Melluso della nonna Caterina e questi che vediamo qui sono alcune delle dediche che la famiglia che i nipoti vi hanno dedicato c'è questa molto bella della chiesa di Secondigliano che insieme a tuo marito Alfonso avete curato e pasturato per tanti anni dice ai nostri amatissimi Alfonso e Caterina Melluso camminare quando gli altri stanno correndo sussurrare quando gli altri stanno gridando sorridere quando gli altri sono disperati fermarsi quando gli altri hanno fretta pregare quando gli altri stanno dubitando conoscere quella pace interiore a dispetto di qualsiasi circostanza questa è la vera forza di un servo di Dio una bella dedica che vi ha fatto la vostra chiesa qui c'è una poesia che vi ha dedicato la vostra famiglia amare ubbidire e servire il Signore che sono le parole chiavi della vostra vita queste sono parole comunque di uomini ma c'è la parola di Dio sulla quale è fondata la tua famiglia la tua storia e la tua famiglia la tua fede e dice Dio è per noi un rifugio ed una forza un aiuto sempre pronto nel ristretto che questo sia anche un auspicio per la tua vita Dio ti benedica e ti mantenga forte nelle vie del Signore grazie grazie e pace grazie 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 a tutti.